Sentite raga, tagliamo la testa al toro, io rispondo e via! Non fermo, non puoi rispondere adesso! Ma scusa, perché no? Sta suonando la mezz'ora! No, 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 bisogna aspettare il... 4 maggio! Spettiamo il 4 maggio! Sceneggiatori piccoli però, eh? Squilla squilla! Tanto qua, stiamo a pettinare le bambole! Vabbè... Impressionante! Che apparecimente! E' esperienza in un concorso! Le sue facutali sono i tazzi! Non c'è un paolo, non c'è un paolo! Non c'è un paolo, non c'è un paolo! Non c'è un paolo! Non c'è un paolo! Non c'è una forcione! Il Qu'è non c'è un paolo? Ci sono più d'40 h Minervai al rim!